Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno dove in direzione mare si segnala un chilometro di coda per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 18 tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Sulla statale 1 Aurelia forti rallentamenti in entrambe le direzioni per un incidente avvenuto tra Calafuria e Quercianella nel comune di Livorno. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Infine per i treni per un inconveniente avvenuto sulla linea tra Castelnuovo, Garfagnana e Lucca i treni sulla linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!